salve a tutti ragazzi sono chiara della tana di mister x adesso faremo questa terza parte del the ring e già mi sono accorta che non c'è l'audio in questa parte non so non so cosa ho fatto quando ho registrato questo pezzo ma non importa come al solito chiara fa cagate allora adesso inizieremo a immergerci nell'underworld che lo chiameremo così perché è l'altro mondo dove entreremo in questo fantomatico gioco software che più che gioco è software alla fin fine ring noi metteremo il nostro nome mag ok ora adesso vedrete ok ora è un gioco scusate proviamo a entrare di nuovo bene e ci ritroveremo tra poco nella stanza dell'altra volta e poi vedrete cosa farò e vi dico che quando si cambia scena è sempre lunga ma la console era così ho cercato con la renderizzazione di tagliare più pezzi boh vediamo adesso ci risveglieremo eccoci qua dove siamo chi siamo benissimo e che dire adesso dobbiamo un po esplorare questa nuova area dovremo scendere vi farò vedere di stare attenti a certi mostri e tanto altro ok qua non c'è nessuno qui e sto anche commentando in una giornata di pioggia contemporanea i tuoni infatti siamo proprio calzati al pennello e dai speriamo che questa parte non ci abbia tagli per colpa della renderizzazione dai iniziamo da andando andando ping stang a quello la sarebbe il box quello che vi dicevo nell'altro video se mettete la roba lì non compare dall'altra parte ecco stegni ne ho un po saliamo un povede per vedere se c'è qualcosa sopra tanto per essere sicuri di non aver dimenticato niente o sperare che gli oggetti compaiono improvvisamente ma non credo ok no non c'è nessuno aveva sentito se abbiamo sentito un rumore di una scimmia simile a una scimmia e noi dovremmo poi cercare questo rumore non c'è niente ah no c'è c'è scusate visto gli oggetti qualche volta ricompaiono improvvisamente non è come resident evil eh scusate si dovevo cercare di prenderli ma io siccome sono molto mongola ho bisogno della prima persona per prendere certi oggetti perché non me li prende è proprio il gioco che è un po spigato eh si ma vabbè capita c'è di peggio ora scendiamo dove eravamo prima dove ci siamo risvegliati e adesso vedremo la nuova area che vi farò vedere è fantastico sto gioco pieno di mostri pieno di bu tanto buio bisogna stare attenti a non consumare la luce perché se consumi la luce non riesci a fare più nient'altro ti perdi fai eh però dopo un po' che ti fai gli occhi infatti cos'è questo? questo è vabbè io faccio mi piace tradurre alla italiana io credo che questo è un underground cos'è l'underground? sotterraneo ecco io lo chiamo underworld ma lasciamo stare ok adesso cerchiamo di stare attenti perché ok vediamo se riesco a colpirli eh dov'è ecco visto sono il genio sdeng 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 si no 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 brutto sembra un pipistrello la faccia di un pipistrello queste si dovrebbero chiamare larve da quanto avevo letto in giro vediamo se io sto cercando di far lentamente perché ho paura di si qua bisogna proprio stare mi faccio proprio la scena brutto questo è più brutto madonna mia sto sembra un demone tipo i demoni di di doom sembra vero ok come folletti no che schifo no che brutto eh scusate qua non ecco i gelli gelli fesci come mi piace chiamarlo a me medusa gelli della medusa comunque no ok abbiamo ammazzato i vostri tanto quelli ricompaiono andiamo qua apriamo ma c'era qualcosa eh 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 cos'è questa roba un folletto eh eh qua è brutto anche ahia qua è brutto anche che quando diventa buio c'è da chiamarsi sotto perché alle prime... è lenta anche a caricare questo...sì è lenta no non sarà mai come il fucil apompa il fucil apompa è una cosa che proprio ti viene da piangere quando c'è la mitraglietta ti diverti totu 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 quando c'è il lanciarazzi è divertente tre sono 3 e poi ricarichi si si 3 ma è divertente infatti vi farò vedere le figure di merda con lancerazzi si si io sono brava con le mire e poi il gioco che non mi prende le mire ok entriamo vediamo un po' ora entreremo in un'altra area e poi ci sarà un filmato tra poco se dio vuole che non mi abbia fatto casino con la renderizzazione ecco questa stanza è molto importante perchè in certi punti ti può salvare la vita poi ci saranno tante altre sorprese che mi faranno piangere ok ora squillerà il telefono in teoria doveva squillare il telefono in teoria però non si qua che sta squillando si si e voi non lo sentirete perchè ho fatto cazzate con l'audio un filmato si si è un scherzo di telefono si che mondo è questo ma che cavolo di mondo si è perchè c'è questo telefono che squilla ho un brutto sensazione un brutto presentimento e guardate chi c'è ah non fanno vedere la cosa vabbè piano eh ma qua c'è qualcuno con l'interno ostia cibo cibo c'è anche un file un file a modi floppy potere 1950 qualcosa è accaduto è accaduto si vabbè è accaduto qualcosa nel 51 al 51 chi è nato nel 51 i miei nonni? no c'erano già vecchi erano già vecchi nel 51 erano già vecchi nel 51 no non erano nati neanche i miei no niente vabbè lasciamo perdere comunque adesso usciamo perchè lì c'era in teoria un salvataggio se qualcuno vuole salvare poi quando lo proverà ok vediamo cosa c'è ah qua ci sono i bagni non vi consiglio di entrare nel bagno degli uomini non perchè non si può perchè è inutile non c'è niente invece si invece qua c'è qualcosa di utile bisogna uccidere però vi faccio vedere una curiosità fanno morire i bagni eccoli lì zanza ma non corri eh si è brutto mamma mia ognà muori muori guardate la mia agitazione e le bestemmie si lei per ora ha deboluccio eh ma il problema è lì c'è qualcosa aspetta eh aspetta di inventario si bisogna vedere la salute infatti normal vabbè non è messa male vabbè mi faccio eh dai siamo ancora nella normal nella normal nel normal anche vediamo qua invece c'era qualche stronzo qui se non erro eccolo stava facendo la cacca devi fare la pupu andiamo qua a prendere muovete fammi bassi bug dai oh eh scusate ma dovevo farmi colpire per prendere quelle stupide munizioni perché poi in certi punti sembra che scarseggiano in altri punti te ne trovi avagonati infatti fai così ma che cazzo non vi consiglio di andare nel bagno dei uomini perché ci sono solo mostri e basta e mostri quindi se volete farvi uccidere andate tranquillamente allora eh non bisogna entrare in quella sta chi è? stavo spaventando ma chi è? è l'uomo è l'uomo di forza mhm non spaventarmi non sorprendermi surprise secondo me sono spaventarmi sì sì non prendermi alla sprovvista comunque eh vabbè bisogna cercare il tizio che è nascosto lui è un tizio io lo chiamo un tizio il tizio il mostro quella roba lì cosa potrebbe essere? io voglio che vabbè vi dico in parole povere che si sta nascondendo un mostro e lui ci dirà di cercarlo e noi dovremmo andarlo a cercare boh questa è la no no è brutto è solo brutto vabbè ce ne sta uno che è nascosto ok ho capito tutto devo ucciderlo eh no stiamo qui a fare un po' di picnic con lui no a parte gli scherzi proprio così devo ucciderlo ah fai un po' te sei tu l'incaricata vabbè vediamo se riusciremo ad ucciderlo o mai Chiara riesce a far tutto a volte hai le botte di culo come si vuol dire ok vabbè andiamo e faccio leggere l'inglese così almeno voi lo sapete meglio di me no ma ho capito che bisognava uccidere qualcuno infatti dirò così dov'è mmm sarà qui nella microscop è nel coso del nella stanza dove fanno il micro sì sì il tuo sogno ok ah le nemiche il nemico si nasconde vediamo come si nasconderà secondo te penso sia uno scherzo sì vediamo vediamo un po secondo te dove si può nascondere uno schifo eeeh ma chi è l'uomo il mostro della parude sì scusate non ve l'ho fatto leggere brutto brutto cosa sei tu mostro si allontani agna eh sì scusate se ne vadi se ne vadi quando carica chi ti frega sempre sì infatti bisognerebbe aprire l'inventario poi ho imparato le mie spese sì chiara si è fatta tanto male alla bua bisogna un po' di erbette di jellyfish di jellyfish ok ha capito che il gioco non è tanto meraviglioso non è grandioso e non sarà facile andare avanti mi sento la grande eh no io penso che questo mi farà tornare indietro sì no dobbiamo tornare indietro infatti noi dobbiamo salire rifare tutta la strada in ogni caso ho guardato attorno vabbè mi dice che è tutto normale per ora dai luma va aspetta vediamo se c'è si no no quando in questi casi vi hanno fatto male perché adesso siamo in bed in teoria poi c'è il il danger sì sì ma è normal vabbè normal ancora siamo ancora la normand la normand come dicevo qua non c'è un cacchio ragazzi volevo farvi vedere proprio la stanza un po' di tutto forse lì c'era una mappa ma l'ho dimenticato ma le mappe sono inutili cioè io quando gioco ai giochi che hanno bisogno delle mappe non le uso mai tipo Silent Hill non so usare le mappe lì faccio come si fa e il tizio è sparito giustamente giustamente ti ha lasciato da solito sì da solito no qua non posso aprirlo qua avevo sbagliato dicevo ma dovevo andare io ero persa però vi faccio vedere un po' di di roba qua intorno se c'è qualcosina così almeno voi vedete un po' dove si può reperire certi oggetti attenti ai mostri vedo anche in lontananza una luce una luce io la chiamavo le luci il ecco scimmietta per un pelo bastarda molto mi stanno sulle palle le scimmie nei giochi no giuro non le sopporto vorrei vedere vorrei vedere residenti io l'ho fatto eh ti ricordi allora era meglio lo scorpione sì lo scorpione ti rubava rebec che tu faccio i miei le piedi forse ma c'è altro scorpione al treno no mi ha ammazzato quello ma io sono fatta così vediamo cosa c'è di bel non c'è un cavolo vabbè le luci servono sempre ragazzi senza le luci se non avete la vista a raggi x come me no a raggi x la vista notturna bionica ecco infatti qua mancava la luce perché si si scarica dopo un po' infatti vi dico dovete prima di tutto quando ci saranno i pezzi al buio vi avviso di mettere grande a schermo perché morite non posso schiarirlo più di tanto perché non si vede è proprio è buio il gioco non posso farci niente neanche se volessi non verrebbe male quindi vi dico che quando ci saranno le parti buie aprite proprio lo schermo grande ah minzi la stanza quanto pianto mamma mia breeding madonna breeding breeding qua c'è un un buttanaio di gente non che stanno facendo il mamma mia mamma mia qua proprio ah me la ricordo i corvi tutto per un jelly nevatevi qua ho avuto culo eh perché ho dovuto rifare da capo tipo due volte che qui mi fottevano non tanto quello che faceva nascondino l'uomo del nascondino ma questi proprio mi hanno fatto mi hanno mi hanno ucciso infatti oh madonna mia ok ritorniamo nella stanza mitica andiamo un po' se mi hanno fatto male prima di tutto ma non credo no normal vabbè curiamoci tanto perché siamo stupidi potevo anche resistere ma non importa sì perché quella rossa non serve a niente quella verde è giusta e quella gialla è quella potente mi sembra si ma sono potenti quelle ultime due la rossa è inutile infatti solo un'attacca sì è buio eh beh è fatto apposto ok ragazzi adesso andiamo eh cosa mi spesso a andare qua sì ah ok ah beh c'è la luce non è quello il problema devo andare a prendere il computer ah per tornare indietro eh 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 Endule chi è? chi è? chi è? mi scusi forse è stata un'immaginazione era Robert ma che Robert era una o una bambina o un mi è sembrato di vedere un gatto mi è sembrato di vedere un gatto sì proprio magari fosse un gatto sarei tipo il gatto micio no ma sei stupido dai ma sei scemo madonna dai ma sei stupido in ogni caso sarà meglio vabbè torniamo torniamo indietro dai su Meg non facci tanto ah il mento come il mio e il naso anche no finiscila dai basta prendermi per il culo comunque dai abbiamo abbiamo finito questa parte però se ci avete fatto caso noi non siamo ritornati dove ci eravamo svegliati ci siamo ritornati dal computer dal computer quindi è una cosa strana non alquanto ci siamo svegliati secondo me è doloroso tipo risvegliarsi dal gioco come svegliarsi di botto sì infatti non secondo me ha provato anche una bella sono passata oltre ancora però stavolta si sente meglio rispetto all'ultima volta sì stavolta non ha scuriato il telefono infatti è una cosa strana comunque ragazzi io vi dico che sta finendo la parte ci salutiamo alla prossima e spero che vi sia piaciuta grazie ancora ciao ciao ciao